Zona della stazione circondata e 172 persone identificate e controllate. È il bilancio, oltre a due arresti e 14 denunce, di una maxi operazione di polizia, carabinieri e polizia locale che hanno bloccato tutte le vie di fuga, controllando oltre alle persone anche 37 veicoli. Una 24enne romena, sorpresa per la terza volta a chiedere l'elemosina disturbando i viaggiatori, è stata destinataria di un daspo, ovvero il divieto per sei mesi di stazionare nell'area ferroviaria. Grazie